buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fanon tv oggi è mercoledì 25 gennaio 2023 vediamo subito l'almanacco del giorno per poi relazionarvi su tutte le notizie che pubblicano i giornali questa mattina il corriere adriatico e il resto del carlino vediamo che oggi non si festeggia un santo anzi sì si festeggia un santo ma un evento particolare della sua esistenza ovvero la conversione di san paolo e sulla strada di damasco che il più acerrimo persecutore dei primi cristiani si convertì poiché una voce dal cielo gli disse saulo perché mi perseguiti ebbene questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere a tutti coloro che ancora oggi martirizzano i cristiani in varie parti del mondo per la loro fede pochissimi giorni fa un sacerdote è stato bruciato vivo in africa e sono diversi i paesi del mondo che ancora oggi perseguitano i cristiani saulo perché mi perseguiti è una domanda che dovrebbe avere una risposta valida ma ovviamente è una questione sempre di potere di oltransismo di insomma di cattiveria perché poi una ragione valida non c'è la conversione di san paolo oggi vediamo il tempo sulle marche un tempo che si mantiene instabile infatti la parola instabilità appare in tutte le previsioni del tempo instabilità a carattere sparso con piogge rovesci alternati a locali schiarite specie lungo la costa neve oltre gli 800 metri insomma il livello si è un po elevato i venti sulle coste espireranno da est nord est nell'interno invece da nord est le temperature si aggirano dai 7 gradi ai 10 gradi levemente superiori a quelli dei giorni scorsi comunque ora fa freddo insomma non è più quel caldo temperato delle prime battute d'inverno del mese di novembre e dicembre ebbene abbiamo relazionato su santo anche sulle previsioni del tempo e ora apriamo i giornali questa mattina cominciamo dal corriere adriatico sulla pagina di fanu e parliamo ancora del maltempo dopo la paura cresce la rabbia risolvete il problema arzilla ebbene il sonno relativamente tranquillo trascorso dai residenti che abitano nei pressi del torrente arzilla dopo che c'è stato un po un rasserenamento dopo la pioggia di domenica lunedì c'è stato un rasserenamento comunque non ha fatto dimenticare l'ansia la preoccupazione con la quale hanno convissuto durante la notte del giorno precedente quando l'ondata di piena dell'arzilla era nel pieno del suo svolgimento un'acqua tumultuosa che si riversava con forza sotto i ponti premeva verso gli argini dilagava verso la foce ebbene molti hanno temuto che gli argini non reggessero e che il livello del torrente si elevasse fino a tracimare quindi a invadere le proprie abitazioni ed ora bisogna per forza arrivare dicono i residenti ad una soluzione del problema ci vuole un organo responsabile che si interessi e che faccia attenzione alla cura e alla manutenzione del corso d'acqua ci sono ancora disparità di valutazioni tocca a me no tocca a te non non tocca a me tra provincia comune regione consorzio di bonifica c'è una dichiarazione oggi del presidente del comitato a zilla viva sul corriere adriatico walter durpetti che dice bisogna fare un incontro tra tutti gli enti interessati e decidere una volta per tutte a chi spetta la manutenzione del corso d'acqua in modo che questo possa riversare possa avere tutte le risorse economiche necessarie per mantenere la tranquillità e custodire la sicurezza dei residenti e appunto imbrigliare la forza del fiume ciò che si è verificato nei giorni scorsi sul misa e sul nevola deve essere una lezione importante perché questo non si ripeta dopo la paura cresce la rabbia sulla zilla vediamo ora le altre notizie vediamo le altre notizie parliamo di cose più leggere vediamo che a fondo pagina il carnevale di fano ha avuto una rinomanza particolare perché è stato presentato in conferenza stampa addirittura nel senato della repubblica a roma è stato il senatore udc antonio de poli insieme al presidente della commissione cultura della camera dei deputati federico mollicone insieme poi al sindaco di fano massimo seri e alla presidente dell'ente manifestazione maria flora gian marioli a presentare il carnevale di fano ieri in senato c'erano con loro anche il l'assessora alla cultura della regione marche chiara biondi e il segretario di stato al turismo della repubblica di san marino federico amati pedini quindi c'erano delle delle personalità di rilievo che hanno dato così valore al carnevale di fano e quindi ha avuto una rinomanza nazionale soprattutto in questa occasione il senatore de poli ha rilevato come la camera durante l'approvazione della manovra abbia approvato anche un emendamento restituendo al bilancio dello stato quei cinque milioni da ripartire ai carnevali storici che erano stati sottratti da una precedente versione quindi così come il carnevale di fano anche ad altri carnevale storici ci sarà una fetta di questa torta per contribuire alla organizzazione dell'iniziativa ricordiamo che le tre sfilate del carnevale di fano si terranno il 5 il 12 e il 19 febbraio prossimo vediamo le altre notizie un lutto a a spalla nella pagina di fano addio all'appuntato gianni il baffo era veramente gremita di gente e di carabinieri in divisa e in congedo l'altro pomeriggio la chiesa della gran madre di dio a san lazzaro per dare l'ultimo saluto a giacinto proto un appuntato in congedo dell'arma dei carabinieri originario dell'eccese ma aveva passato 40 anni nella città di fano distinguendosi per lo spirito di abnegazione per il senso dell'overe e soprattutto per la luggimiranza della propria opera quindi l'addio a gianni il baffo secondo titolo di apertura del corriere adriatico questa mattina abbiamo un fatto di cronaca per un fallo di reazione durante una partita di calcio un giocatore ha reagito procurando una frattura alla testa al proprio avversario al giudizio il portiere del real gimarra si tratta di un giovane senegalese accusato di lesioni volontarie su un avversario la difesa ha reagito dicendo che aveva subito un insulto razzista e questo aveva provocato una sua reazione ma è stata una reazione che ha ecceduto al normale spirito agonistico che si può praticare in un campo di calcio una partita di calcio di seconda categoria la testata in faccia e il rinvio al giudizio con la richiesta di un cospicuo risarcimento 150 mila euro ha chiesto la parte offesa ieri in tribunale a pesaro un senegalese di 22 anni residente a fano è stato rinviato al giudizio con l'accusa di lesioni personali aggravate da futili motivi e dal fatto causato durante una manifestazione sportiva una gara che si era svolta il 21 novembre del 2021 quando torre san marco la società di frate rosa affrontava il real gimarra e il senegalese ha reagito a un fallo di gioco insomma 150 mila euro senegalese squalificato per oltre due anni per il giocatore colpito con una testa quasi sette mesi di prognosi veramente è stato un danno non lieve quindi abbastanza grave minaccia e picchia i genitori questo è un articolo a fondo pagina sempre della stessa pagina del corriere minaccia e picchia i genitori over 80 va rieducata si tratta di una donna di 42 anni che ha patteggiato ma dovrà svolgere un corso per il recupero era una donna che aveva subito una disavventura coniugale si era separata dal marito era tornata a vivere con i genitori ma nei confronti del vecchio padre della vecchia madre aveva assunto un atteggiamento molto molto coercitivo insomma era diventata violenta e soprattutto aggrediva anche i suoi genitori con espressioni verbali molto molto forti le angherie iniziate quando l'imputata è tornata a casa paterna dopo il divorzio il caso riguarda una 42enne fanese appunto che ha tenuto probabilmente aveva una instabilità dicono il giornale psicologica una costante era la richiesta di denaro insomma voleva il denaro e quindi insisteva nei confronti in maniera anche violenta insisteva nei confronti dei suoi genitori giovane spacca una vetrata di un ristorante in pieno giorno danneggiata la bottega di corso matteotti la bottega del centro ebbene qui c'è un grido d'allarme il proprietario di questo ristorante che di fronte alla chiesa di sant'arcangelo a fano in pieno centro storico e s'affaccia su corso matteotti la via principale della città evidenzia come un gruppo di giovinastri che prima magari stazionava il pincio ora il pincio è diventato un posto un pochino più sicuro perché è veramente costellato di telecamere quindi basta che qualcuno reagisca in un modo così irregolare che subito viene sorpreso ebbene sembra che questo gruppo di giovani sia spostato nei giardini di piazza Miani nei pressi delle Luigi Rossi e qui si abbandoni a certe intemperanze per esempio un giovane lunedì scorso è stato visto scagliare un sasso nei confronti di una della vetrina di questo ristorante e poi darsi alla fungo è stato visto appunto da una inquilina che abita nei pressi e c'è un grido d'allarme perché insomma non si vorrebbe che quello che prima era il pincio ora si fosse trasferito semplicemente quindi non fosse annullato ma si fosse trasferito da nei giardini di piazza Miani giardini dove spesso c'erano persone che si abbandavano anche si abbandonavano anche l'uso di di droga che dormiva nelle panchine insomma anche questo è un luogo da tenere sotto stretta sorveglianza ecco perché si chiede all'amministrazione comunale di installare anche qui le telecamere ormai le telecamere ci sono dappertutto è una più una meno è solo questione di bilancio comunale restiamo ancora a Fano per parlare della ferrovia Fano Urbino e l'assessore regionale Baldelli annuncia un nuovo sviluppo Baldelli in regione sulla visione della rete ferroviaria risponde a Biancani del Partito Democratico dopo quattro anni il lavoro non pubblico ci sono diverse reazioni c'è la dichiarazione dei Baldelli c'è quella di Biancani c'è quella di Luca Serfilippi consigliere regionale della Lega una linea ferroviaria retrata per il trasporto veloce di merci e passeggeri con una nuova stazione di Fano collocata in periferia e la trasformazione in metropolitana di superficie dell'attuale ferrovia adriatica da Gabicia Mare a Porto d'Ascoli questo potrebbe essere un po' il disegno del futuro per quanto riguarda la rete ferroviaria che attraversa il nostro territorio il primo tratto della Fano Urbino in questo caso fungerebbe da raccordo tra queste due linee ferrate mentre il ripristino dell'intera tratta romperebbe l'isolamento infrastrutturale delle zone interne tramite una virtuosa connessione con la linea sub-Apennina è tutto un raccordo, tutta una rete che si cerca di rimodulare per rendere più efficace il trasporto ferroviario ma anche per così coordinarlo con quello delle piste ciclabili vediamo, questo articolo è molto interessante ed è molto particolareggiato bisognerebbe leggerlo nei particolari ora non è il caso di riassumerlo perché insomma non è molto molto facile vediamo ancora le altre notizie a San Costanzo piove ancora nella palestra una palestra che era stata oggetto di un ingente investimento nei giorni scorsi già investiti 45 mila euro sono gli esponenti della minoranza di San Costanzo che segnalano il disagio e i rischi per gli sportivi ebbene la pioggia dei giorni scorsi ha rivelato ancora una volta i problemi di questa palestra è la palestra Martina Pagnetti che si è allagata ancora una volta a causa del maltempo i consiglieri comunali di opposizione del gruppo misto di San Costanzo sbottano e protestano si tratta di Domenico Carbone, Ermene Gildo Bevilacqua e Nicoletta Carboni che hanno evidenziato, che hanno scritto, hanno sottoscritto una nota per evidenziare questo problema e siamo a Senigallia a Senigallia è il Misa che preoccupa così come l'Arzilla a Fano il Misa insomma è un po' la spina dolente di Senigallia dopo la piena di questo torrente, la marreggiata, la spiaggia di Velluto coperta di detriti una fotografia significativa vedete questa fascia scura che si estende sulla spiaggia di Senigallia ebbene è una fascia coperta di rami, di secchi, di sporcizia che il mare ha rigettato sulla spiaggia e tutta quella vegetazione che le acque dei torrenti tumultuosa hanno strappato dalle rive, hanno riversato in mare e il mare poi riporta sulla spiaggia ora occorre veramente fare un radicale intervento di polizia da ponente a Levante una lunga distesa di rami e tronchi oggi partiranno i lavori di polizia appunto lo ha dichiarato il sindaco di Senigallia vediamo anche qualche notizia a livello regionale dove si parla del fallimento della banca delle marche risarcimenti ad ogni costo ora, una volta che il processo ha definito le varie responsabilità i risparmiatori attendono alla restituzione del loro denaro la strada però è tutta in salita vittime appese alla causa civile o agli indennizi stratali una strada veramente in salita archiviata la sentenza di condanna per il crack di banca marche con il riconoscimento in primo grado delle responsabilità di sei imputati per le 3.200 parti civili tanti sono i risparmiatori che devono avere soldi appunto da questa banca fallita si apre un altro capitolo quello appunto dei risarcimenti il collegio penale ha decretato che sarà il giudice civile a quantificare la somma aspettante a chi ne ha diritto e diamo un'occhiata anche a questa tabella che appare all'inizio dell'articolo è molto significativa abbiamo detto che sono 3.200 le parti civili costituite nel processo contro banca marche la decisione del collegio penale si riferisce alla quantificazione del risarcimento che dovrà essere deciso in sede civile per un massimo di 15.000 euro ciascuno le opzioni per le vittime vediamo quali sono la riattivazione del FIR ovvero del fondo indenizzo risparmiatori FIR per ex obbligazionisti oppure azionisti in un procedimento civile insomma bisogna o attingere all'uno oppure fare il processo civile del FIR hanno già usufruito 5.000 ex azionisti recuperando una cifra considerevole il 95% del costo di acquisto quindi qualcosa hanno avuto nel fondo ci sono 500 milioni da ripartire ma appunto coloro a cui spetta il risarcimento sono tanti sono 3.200 vediamo ora le altre notizie per quanto riguarda il coronavirus la pandemia non dobbiamo mai dimenticarci che ancora il virus circola tra di noi coronavirus la grande ritirata ricoveri scesi sotto quota 100 ebbè è una notizia questa che dà un po' di soddisfazione diminuiti i tamponi ma anche il tasso di positività 1.200 i casi settimanali erano addirittura 7.000 tra il 15 e il 21 ottobre sono scesi a 1.200 casi settimanali appunto nel gennaio dal 14 al 20 gennaio questi sono un po' gli ultimi dati a cui si riferisce questa tabella che vediamo qui vediamo il decorso della malattia da 7.000 si era scesi a 4.000 poi si era risalite ancora una volta e quindi ora si è scesi veramente ad una cifra insomma siamo parecchi nelle marche e quindi 1.200 è una cifra piuttosto controllabile e comunque arriva nella nostra regione anche il vaccino Sanofi è un nuovo vaccino disponibile da oggi nelle marche è incluso nel programma di vaccinazione come dose di richiamo eterologa nel caso in cui non sia ritenuta opportuna la somministrazione di un vaccino mRNA bivalente a distanza di almeno 120 giorni dall'ultima vaccinazione può essere utilizzata anche dai ragazzi superiori ai 18 anni insomma va bene come richiamo rispetto a vaccinazioni già effettuate con il vaccino Pfizer e Moderna quindi una nuova opportunità per difenderci dal coronavirus il resto del Corriere Adriatico parla diffusamente anche della rabbia dei bagnini per le devastazioni che le mareggiate hanno operato lungo le spiagge in tutto il litorale da Pesaro, da Gabice possiamo dire su su fino a San Benedetto del Tronto la rabbia dei bagnini le spiagge divorate le strutture distrutte disastro a sottomonte a Pesaro tra errori e mancanze l'assessore Belloni come soddisfazione almeno dice che la Bicipolitana ha tenuto mentre a Fano la situazione delle spiagge si somma con le devastazioni che sono state effettuate nell'entroterra il vento, la pioggia gli allagamenti le strade che sono state interrotte anche i carabinieri impegnati nel caos del maltempo i carabinieri impegnati appunto per mitigare quello che è avvenuto ma non hanno trascurato poi le azioni di ordine pubblico e in questo caso vediamo come sono stati effettuate anche iniziative di questo genere a San Costanzo domenica scorsa un'ottantenne era finito fuori strada a bordo della sua automobile i militari hanno fermato un furgone in transito con una corda l'hanno tratto d'impiccio e sempre a San Costanzo i carabinieri hanno monitorato le zone rurali assistendo alcune famiglie di Vincareto che erano state che erano rimaste isolate durante una riunione in provincia a Pesaro il vice commissario per l'alluvione Stefano Babini ha annunciato la via libera e i primi 5 milioni di interventi in somma urgenza per riparare le infrastrutture del ciclo idrico integrato perché anche gli acquedotti hanno subito dei danni dal maltempo Confesercenti operazione rinnovamento assegno il colpo grosso l'ingaggio di Ippaso ex Confcommercio ebbene sono veramente felici i dirigenti della Confesercenti per avere dalla loro parte l'esperienza di Ippaso un uomo che si è sempre interessato per lo sviluppo e la difesa del commercio a Pesaro Licurgo dice con lui rafforziamo la nostra presenza sarà il braccio operativo dell'associazione e diamo un'occhiata anche alla pagina di Urbino dove si parla delle celebrazioni per Federico così come il Carnevale di Fano ha avuto la platea prestigiosa del Senato ebbene le celebrazioni di Federico al Ministero hanno avuto un'altrettanta cornice prestigiosa figura simbolo del rinascimento per questo duca che è il simbolo appunto del rinascimento un duca illuminato altri grandi eventi nel 2023 sgarbi al Ministero illustra il programma apriamo ora il resto del Carlino e vediamo come la Giunta ha assunto una decisione per tre intitolazioni importanti le donne Bigio e Brongo la città avrà i loro nomi via libera della Giunta ha tre nuove intitolazioni riguarderanno il parcheggio di via risorgimento che sarà intitolato a Piazzale Donne della Costituente il ponte dell'Arzilla che sarà intitolato al Bagnino Pierluigi Ricci detto Bigio è il settore dello stadio che avrà il nome la curva il settore dove ci sono i tifosi locali e la curva Bronco in ricordo del tifoso dell'Alma Juventus di Fano Federico Santini una persona indimenticabile un tifoso veramente appassionato della propria squadra della propria città che purtroppo è deceduto la Giunta ha deciso di accogliere le proposte della Commissione Toponomastica che a sua volta ha fatto proprie le petizioni di raccolte di firme di molti fanesi quella di Bigio quella di Bronco in modo particolare invece quella delle donne della Costituente è stata sostenuta dal Soroptimist che ha messo in evidenza come tali donne divennero il ponte ideale tra la fede tra la sfera politica fino allora dominata dagli uomini e quella femminile che aveva davanti a sé l'occasione unica di cambiamento anche le donne hanno influito per così cambiare la Costituzione per cambiare insomma per dare nuovi diritti soprattutto ai più deboli donne e bambini per quanto riguarda i disabili insomma le persone fragili che sono inserite pienamente nella Costituzione italiana il Carnevale Patrimonio Unesco presentato in Senato la candidatura l'annuncio del senatore Antonio De Poli approvato in Parlamento anche l'emendamento della manovra della ripresa per quanto riguarda i finanziamenti di 5 milioni per destinati ai carnevali storici a San Costanzo piove in palestra ma addio soldi per i lavori l'opposizione accusa era stato previsto un intervento di 80 mila euro che poi è stato annullato diteci il perché e quindi dovrà rispondere la giunta in merito a questa a questa vicenda a Urbino a Urbino tra poco si profila l'insediamento del Vescovo di Pesaro Salvucci che diventa anche il Vescovo di Urbino nella città Ducale si insedierà il 5 marzo prossimo da quella data prenderà ufficialmente in carico anche Urbino Urbania e Sant'Angelo la cerimonia è prevista alle ore 17 con una messa nella cattedrale ebbene l'Arcivescovo Salvucci si è trovato sulle sue spalle non solo il peso di una diocesi importante come quella di Pesaro ma anche questo questo problema che probabilmente lui non avrebbe voluto che gli si fosse presentato ma ha dovuto incontrarlo e quindi cerca di gestirlo nel migliore dei modi noi facciamo gli auguri al Vescovo Salvucci però capiamo anche il dispiacere degli urbinati di fronte alla soppressione della loro diocesi speriamo che il tempo sia una medicina per quanto riguarda la situazione che è stata avallata ovviamente e difesa dal Vaticano Bollette Menocare Macerata Feltria Doce parte un progetto pilota con l'installazione dei pannelli in comune quindi potranno aderire tutti i residenti che lo vorranno giriamo pagina e troviamo e troviamo una notizia che riguarda gli studenti di Piobbico studenti in classe con le coperte a Piobbico fa freddo fa freddo più che nella costa la costa la costa viene battuta dal vento ma Piobbico è vicino a Monte Nerone insomma siamo in una zona appenninica e quindi il freddo è piuttosto intenso un genitore è tornato a riprendere la figlia perché era troppo freddo in classe il sindaco chiede scusa il preside aspetta la scuola nuova aspetta non aspetta una nuova caldaia aspetta una scuola nuova quindi pensate com'è la situazione a Piobbico a Piobbico i ragazzi vanno a scuola con zaini pieni di libri quaderni penne matite è una dotazione supplementare una coperta di lana perché veramente in classe fa veramente freddo poi vediamo un'ultima notizia che riguarda la cronaca picchiata e maltrattata lui era sesso estremo ieri in tribunale di Urbino il tribunale ha condannato un uomo un 34enne di Apecchio a 5 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti di origine sessuale alla sua compagna e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 del TG di Occhio alla Notizia di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione